Salve cari amici di Guidaiphone, oggi vi andiamo a presentare una custodia Quixit di un bel verde beh sicuramente non è un verde piretto, però è un verde acido, non lo so, non me ne intendo dovete chiedere alle ragazze, loro conoscono molti più colori di noi, guardate quanto è bella questa custodia a me questo colore mi piace tanto, che sia verde acido, verde pisale, insomma quello che volete, non mi piace tanto adesso andiamo a provare, forse con l'iPhone bianco, 4S, attenzione, guardate, beh non è, non ci sta male, dai molto molto carino, e così anche il bianco fa un adesso, eh perché vorrei chiedere qualcosa a Siri, what's the time? come vedete Siri mi ascolta in tutti i versi, what's that? allora una custodia molto molto carina, ma riproviamo a chiedere a Siri what do you think about this art shell? eh, il mio inglese, eh? vediamo Siri che ne pensa what do you think about special? eh beh, sì, art shell, forse art shell non si ci dice vabbè, niente, se usate questa breve brevissima Siri introduction tell me a story c'era un ragazzo sui commenti che non riusciva a far dire la storiella a Siri vediamo se ce la racconta ops ma non voglio le nuoveme vabbè niente, insomma, con gli italiani Siri non va molto d'accordo l'importante è che questa è bellissima custodia ve l'ho mostrata beh, mi posso dire che anche al tatto è molto carino è un bel regalo, eh? ve lo posso assicurare, è un bel regalo se volete fare un regalo questa custodia è perfetta guardate beh, mi piace beh, dopo tante cavolate vi posso abbandonare ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ciao